Fisicamente sto bene, ho smaltito la botta e questo doppio successo è importante sicuramente perché ci dà delle conferme sul nostro lavoro, anche quando le cose magari non andavano per il verso giusto noi con equilibrio analizzavamo le partite per trovare poi le conferme che poi sono successe durante sia la partita con il Lecce sia la partita con Francavilla. E poi per quanto riguarda la classifica non la guardiamo, noi abbiamo dei nostri obiettivi e ora poi è presto quindi non gli diamo tanto peso. Sicuramente sarà una partita complicata come lo è stato con il Francavilla, come lo è stato con il Lecce. Noi dobbiamo avere pazienza e far quello che proviamo durante la settimana con il mister e basta giocare con l'ignoranza calcistica giusta, con unione, con umiltà e rispetto dell'avversario e poi basta tutto qui. Io da quando sono arrivato vedo un ambiente per quanto mi riguarda abbastanza positivo, lo si nota soprattutto la domenica. Qui a Torre del Grifo diciamo che siamo un po' riparati da questo entusiasmo quindi per quanto riguarda me lo si nota soprattutto la domenica e come anche a Francavilla che comunque i tifosi sono venuti in massa nonostante un viaggio lungo. L'Andria ci sono stato, è un gruppo unito che si aiuta e che fa del gruppo la loro forza quindi dobbiamo almeno rispondere con le stesse armi loro e poi fare qualcosa in più. La collaborazione è importante, la parola positiva verso il compagno soprattutto nei momenti di difficoltà è fondamentale. Noi stiamo cercando di migliorare questo punto di vista perché alla lunga è il gruppo soprattutto nei momenti di difficoltà che ti tia fuori da questi momenti. Io ho giocato sempre in Serie C e diciamo che qui non è Serie C a livello di strutture, la Serie C è ben altro quindi qui hai tutto per lavorare nei migliori dei modi, non hai alibi perché la società ti mette a disposizione tutto, tutto quello che è necessario per far bene quindi sta a noi lavorare e far bene. Non mi piace fare questi pronostici, sono sincero, preferisco concentrarmi e preferiamo concentrarci su noi stessi, su quello che ci dice l'allenatore e di mettere in atto le sue idee di gioco durante il sabato o la domenica quando si gioca. Alla base dei risultati c'è il gruppo, se siamo in tanti lo sapevamo che comunque c'era della concorrenza, siamo venuti qua con questa consapevolezza, a chi non sarebbe andato bene l'avrebbe detto in fase di mercato, penso. I giudizi è bene darli alla fine, non ci dobbiamo pullare su tutte queste chiacchiere positive e negative che siano, noi dobbiamo andare dritti verso la nostra strada e lavorare con la serenità giusta senza troppe chiacchiere.